Antonio Tassone, a parte il collega, a parte il collaboratore della nostra emittente, sei anche un sidernese e non sei sicuramente contento della situazione che in questo momento Siderno sta vivendo, per le strade in particolare? Sidernese è direttamente interessato perché risiedo proprio a 200 metri linea d'aria dall'impianto di separazione dal TMB di San Leo. Penso che sia sotto gli occhi di tutti la situazione ambientale di Siderno, ma noto che queste manifestazioni vengono spesso organizzate a ridosso delle competizioni elettorali, siccome qua a Siderno si voterà a ottobre, novembre prossimo ritengo che siano alquanto tardive perché magari questi problemi andrebbero affrontati in luoghi sicuramente più consoni ovviamente parlo di tavoli di concertazione tecnica per quantomeno cercare di limitare il problema. È evidente che la raccolta differenziata, così come è stata concepita qua a Siderno, così come in altri comuni della nostra provincia, della nostra regione, non va. Ci sono delle lacune da parte della società che ha l'incarico appunto di provvedere alla raccolta dei rifiuti, ma voglio ricordare che a Siderno ancora non c'è un'isola ecologica e quindi i cittadini sono estremamente confusi, eppure era stata finanziata, ci sono stati anche degli stanziamenti appositi c'è una situazione che secondo me deve essere normalizzata attraverso l'internalizzazione della raccolta perché è inutile affidarsi a società di, in questo caso, miste pubblico-private ma cercare di organizzarsi con personale interno per provvedere alla raccolta perché solamente in questa maniera ritengo che si possa quantomeno limitare il problema. Non pensi che ci sia un problema di indisciplina anche dei cittadini che buttano per la strada tutto quello che vediamo? Gente non iscritta al ruolo, i dati erano il 66% di evasori, c'è chi non paga il dovuto? Questi numeri sono secondo me abbastanza fantasiosi, nel senso che io sono stato anche all'interno dell'ente è chiaro che c'è una percentuale, così come c'è in tutti gli altri comuni, di evasori ma non credo che solamente il 40% dei sidernesi paghi i tributi, anzi è una larga parte certamente c'è anche il furbetto che deve essere sanzionato però deve avere anche i servizi e se ci lamentiamo del fatto che questi cittadini non vengono perseguiti per legge dobbiamo anche dargli dei diritti i cittadini hanno diritto ad avere un'isola ecologica, i cittadini hanno diritto ad avere un servizio qualificato e serio i cittadini hanno il diritto di venire al comune il giorno e trovare chi li rappresenta entrare negli uffici e avere delle risposte e francamente mi pare che in questo momento qui nel comune non si stia verificando per quanto riguarda l'utilità di queste serate, abbastanza deleteria questa sera come manifestazione perché i problemi andrebbero graduati, a mio modo di vedere il problema principale che in questo momento c'è a Siderno è l'impianto di separazione si mette al primo posto un impianto di separazione poi a cascata arriva la questione della SICA al secondo posto ci mettiamo la SICA la DIGA, ci mettiamo la DIGA al terzo posto sono tante problematiche certamente non compete a noi come giornalisti andare a graduarli e a qualificarli però ritengo che chi si interessa della cosa pubblica perché giustamente facevo notare anche dal pubblico che bene o male sono sempre gli stessi rappresentanti che circolano qua eppure a Siderno c'è stato un fallimento della politica negli ultimi 15 anni, 10 anni tu dici che siamo spiegati a un ricambio quantomeno, non vorrei ritrovarmi alle prossime elezioni con delle coalizioni con i soliti candidati riciclati che erano candidati col centro-destra che poi si spostano al centro-sinistro e viceversa perché non vorrei correre il rischio che l'altra amministrazione venisse nuovamente sciolta per mafia e se si lavora così mi pare che siamo su questa strada